Si è insiedato ufficialmente ieri sera al Forum dei Giovani del Comune di Monte Corvino Pugliano. Nella prima seduta, tenutasi presso l'Aula Consigliare d'Aiutolo, sono state votate le cariche direttive. Alla Presidenza è stata eletta l'unanimità Federica Nappo, mentre alla Vicepresidenza, Manuele Montella. Il delegato all'Assemblea Provinciale, invece, sarà Fabio Bonomo e il segretario Eddi Sica. A partecipare alla seduta, nel corso della quale sono stati presentati i punti programmatici del nuovo Consiglio, anche il sindaco facente funzione Alessandro Chiola e il consigliere delegato alle politiche giovanili Daniele De Matteis. Faccio i complimenti a questi ragazzi, che rappresentano un vero e proprio esempio per i giovani del nostro territorio, in un momento storico in cui tanti ragazzi hanno perso fiducia nei confronti delle istituzioni. È stato il commento del delegato De Matteis.